e ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video come vi avevo detto sponsorizzato vi avevo fatto anche un video oggi siamo qui per sponsorizzare Emanuele Pavia iscrivetevi lasciate like forse vuole iniziare con il suo canale poi sponsorizzo Gianmaria Martinelli solo io mi sono iscritto ma credo che vuole aprire il suo canale poi ragazzi abbiamo Known Spacer lo sponsorizziamo c'è 102 iscritti vi ricordo che 150 iscritti non faccio sponsorizzazione dovete portargli 5 iscritti e non 3 nella descrizione vi ricordo che troverete tutti i passaggi te lo faccio gratuitamente perché siamo collaboratori stiamo facendo una serie insieme quindi ragazzi commentate con il nostro sponsorizzo se volete sponsorizzati lasciate like portatemi di iscritti quindi raga bye ciao 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 ciao